Chi vedi qui? Ma soprattutto quando lo vedi? Un'automobilista che procede a 56 km orari copre 15 metri ogni secondo. Ecco quanto sono importanti poche centinaia di metri di visibilità. Fatti vedere prima in modo più umano, grazie alla collezione Run Visible di Brooks. Run Visible comincia dai colori a contrasto e dal giallo nightlife, uno dei colori più facilmente visibili in condizioni di scarsa luminosità. Ma noi siamo andati oltre, nel design e nella biomeccanica. Vogliamo che i runner vengano visti da tutti, anche dagli automobilisti. Così abbiamo puntato la nostra attenzione ai loro occhi, anche se non si dovrebbe puntare nulla negli occhi di nessuno. La ricerca dimostra che riconosciamo le sembianze umane in base alle articolazioni. Abbiamo progettato un tipo di catarifrangente che restituisce l'effetto del corpo umano in movimento. Grazie all'accordo con 3M, sfruttiamo la luminosità del materiale catarifrangente 3M Scotch Light posizionando nelle parti giuste il C790 Carbon Black Stretch Transfer Film per renderti più che visibile, ti rende umano. Non è sempre vero che essere super brillanti sia meglio. Sei un runner, non una stella. Il nostro effetto catarifrangente bilanciato fa sì che i runner entrino nel campo visivo limitato degli automobilisti e vengano riconosciuti subito. Abbiamo posizionato i nostri materiali per sfruttare al massimo la direzione della luce, come quella dei fanali rivolti verso il basso e l'esterno della strada. Tutto questo fa parte di un pacchetto così bello che quando ti vedono ti senti sicuro di te. E se sei sicuro di te stesso, sei sulla strada giusta per dare il massimo in tutto il tuo splendore umano. Brooks. Run Happy.